Via libera, qui è tutto vuoto. Nikolai, la fabbrica è vuota. Non c'è traccia di Makarov. Deve aver spostato il quartier generale della milizia nel centro della città. Andiamo subito. Attenzione, abbiamo compagnia. Ci hanno scoperti. Ascoltua Kappa. Yuri, corri! Qui, dove? Ascolti. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yuri, di qua! Sapevano che eravamo qui! Mi interessa solo il carico di mano. Muoviamoci! Un portatore, davanti a noi! Contatto a ore 2! Yuri, vai alla calibro 50 e coprici! Para sul furgone! Contatto a ore 2! Contatto a ore 2! Contatto a sinistra! Arriva un altro furgone! Si strugino! Contatto davanti! Forza libertà in arrivo! Forza di! Dobbiamo andarsene di corsa! Abbiamo tutta la milizia, le calcagna! Non fermatevi, o ci fanno la pelle! Contatto a in arrivo! Non fermarci! Da a destra! Non fermiamoci! Non fermiamoci! Yuri! Yuri, ti vedo! Non fermarti! Sparano con i martai da quella torre! Sparano con i martai da quella torre! Fissioni confermate! Parecchi soldati della milizia vengono verso di noi! Diamogli un bel benvenuto! Yuri, usa il mortaio sul tetto! Inizia a far piovere colpi! Usa il mortaio per far fuori quel bastante! Ci sono due furgoni e un bel po' di uomini! Eliminali! Tutti i bersagli nel villaggio sono nemici! Spara tutto quello che si muove! Mazzino a sparare! Per ora basta! Andiamo! Raggiungiamo la chiesa! Non abbiamo molto tempo! Di qua! Nicolai, ci avviciniamo alla chiesa! Sei sicuro che il carico è lì? È l'unico posto dove possono averlo portato! Se non c'è, allora è già in viaggio per l'Europa! Speriamo che abbia raggiù! Non è libero! Grazie a tutti.